ottimo lascia la correre qua stai stretto qua stai stretto intardala un po' vai inseriscila qua è meglio di seconda però non conosco la tua macchina ma va bene di seconda è meglio beh diventa più nervoso rischi di girarti tocchi al ciclino ottimo merda sassi di merda è pieno di sassi questo spostati svanalalo e passa vecchia merda